Allora noi oggi presentiamo, sempre per sottolineare il livello propositivo che contraddistingue il Movimento 5 Stelle, la proposta di legge per l'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare che abbiamo chiamato Mondo di Mezzo. E l'abbiamo chiamata Mondo di Mezzo e non Mafia Capitale, volontariamente, perché vogliamo che la politica esplori una dimensione che non è la dimensione giudiziaria per la quale esiste un'indagine aperta della procura, della magistratura, con i tempi della magistratura si andranno ad accertare fatti e responsabilità. Non è un piano amministrativo perché esiste una commissione di accesso prefettizia che sta lavorando, speriamo di avere presto qualche notizia, sappiamo che è stata prorogata di altri 90 giorni, sappiamo che presto audirà i nostri consiglieri comunali e quindi sta facendo il suo corso. Il piano che noi vogliamo esplorare è un piano politico, è il piano di un partito e di una politica che ha lasciato degli spazi enormi di vuoto in cui si è infilato e si è creato questo mondo di mezzo fatto di burocrati corrotti, fatto di amministratori e politici corrotti, fatto di delinquenza organizzata, fatto di imprenditoria senza scrupoli. Questa è la dimensione che noi vogliamo esplorare. Ed è per questo che diamo ancora una volta uno simolo e un input con la nostra azione alla politica perché riesca a dimostrare che c'è ancora spazio di redenzione per questa classe politica, se ne è capace. C'è lo spazio in cui la politica si inizia ad assumere le sue responsabilità, va a chiarire le cause della situazione che hanno portato il nostro paese al punto in cui l'hanno portato perché mafia capitale non è un'indagine locale sia per il ruolo della città di Roma sia per il sistema che si è dimostrato nella sua esemplificazione massima in questa inchiesta. Mafia capitale è il sistema della corruzione in Italia. Noi esploriamo, vogliamo che la politica esplori questa dimensione e come Movimento 5 Stelle ovviamente abbiamo la necessità o meglio è imprescindibile che la presidenza di una commissione di inchiesta che vada a indocare sulle responsabilità politiche non venga affidata a nessun altro che non sia il Movimento 5 Stelle perché potete scrivere tanti folcloristici articoli su di noi che fanno sicuramente alzare i click dei vostri siti o aumentare le vendite dei vostri giornali ma non c'è una cosa che ci possa essere negata cioè il fatto che noi siamo onesti, abbiamo le mani pulite abbiamo l'onestà intellettuale di poter mettere mano a questo argomento e poter condurre una commissione di inchiesta su questo tema la politica non è fatta di tweet o di annunci nei talk show televisiva è fatta di fatti e quindi i partiti devono metterci la faccia e votare l'istituzione di questa commissione di inchiesta Grazie a tutti